ragazze buonasera e buona venerdì 31 di maggio ultimo giorno del mese di maggio quest'oggi 19 29 ultimo minuto che c'è rimasto no non è l'ultimo minuto però insomma il punto vendita è al ridosso della chiusura ragazzi anche quest'oggi sono qui a far vedere il mio look of the day di oggi total black a dirvi che maggio è finito ma che siamo riusciti a prorogare intanto per la prossima settimana anche la promo due e mezzo quindi ragazzi mi raccomando correte sulle nostre pagine di instagram facebook youtube tik tok a cercare il post della promo due e mezzo mettete il like e salvate il reel così si attiva la promozione e anche per tutta la settimana prossima non so fino a quando comunque tanto per la settimana prossima è sicuro che abbiamo attiva la promo due e mezzo quindi quando passate qui presso il nostro punto vendita acquistati il meno caro lo pagate soltanto la metà e quindi corri adesso è il momento sta arrivando il primo di giugno domani e quindi prepariamoci a fare un cambio di stagione tutta dritta verso l'estate tutta dritta con la promo due e mezzo e quindi vantaggiosissima veloce veloce però adesso vi faccio vedere il mio look of the day di oggi che ragazzi vi devo dire è stata una mattinata è vero l'ultimo giorno di maggio è cominciato proprio come l'inizio cioè freschetto venticello nuvolo due gocce d'acqua e quindi un total black per il mio outfit di oggi un total black che ha previsto il giubbino di jeans fantastico alleato da poter mettere in questo periodo è comunque da tenere sempre nell'armadio ragazze ce l'abbiamo ancora assortito giubbino di jeans colorato nella versione sabbia ovviamente disponibile nella colorazione nera proprio come quello e anche nella colorazione grigia ragazze praticamente tre colorazioni basiche da poter utilizzare in tutti quanti gli outfit stivi perché tanto su tempo comunque si sa è mattacchione quindi un giubbino di jeans fa sempre comodo nella sotto al giubbino di jeans nella colorazione nera per fare il total black ma con una bella stampa dorata ho scelto di mettere aspetta vediamo se si legge il telefono riusciranno i nostri eroi ci sono riuscita no no sì sì no io ce l'ho il trespolo per il telefono ma è più comodo così sotto sono andata ad abbinare la t-shirt nera con la stampa dorata ragazze t-shirt nere che abbiamo assortite parte che abbiamo pure le versioni bianche e ecco giusto appunto mi rimetto a farvi vedere con la scusa anche le nuove stampe nelle colorazioni queste per quanto riguarda la t-shirt ma nella versione oversize che quindi rimane un pochino più lunghetta un pochino più morbidina quindi anche per chi ha il seno grande nelle colorazioni vedete quella la versione piccolina e oversize con la base bianca e la deliziosa stampa impunturata e con il filo dorato e con il filo sul argento e poi invece per quanto riguarda le versioni basiche anche nella colorazione nera proprio come quella che sto andossando io ragazze stampa con il cuore eccola la mia taglia unica cotone ottimo ragazze perfette per questo periodo di nuovo disponibile anche il cuore argentato di nuovo disponibile il cuore dorato ragazze e un tributio di stampe anche con la versione bianca love believe il fiore dorato aspetta vediamo questa qui con il topolino la butterfly con il verde e ancora vi faccio vedere perché ci sono arrivate nuove anche le stampe nella versione oversize di nuovo disponibile l'amazing questa l'abbiamo vista questa l'abbiamo vista eccole qui nella versione oversize le nuove stampe che ci sono arrivate con l'albero della vita e una moltitudine di farfalle multicolor e ragazze new entry anche questa qui che ha il cuore paillettato con le paillette argento e nere effetto animalier questo cuore tutto quanto strassato intervallato ragazze ha fatto apposta l'intervallo proprio per dare più movimento oversize che vi stavo dicendo sono in un ottimo cotone che vanno a coprire le sciapette perché nella parte di dietro rimangono leggermente più lunghe leggermente più stondatine ragazze queste morbide e lunghe da mettere anche sopra un leggings per fare sport per stare più comode ma perfette anche per chi alziene un pochino più grande per quanto riguarda il mio outfit ritorniamo a farvi vedere l'outfit il jeans push up ragazze ci ha ritornato di nuovo disponibile a sortire a partire dalla taglia 36 il jeans ovviamente jeans estivo quindi più leggero modello skinny che va a stringersi nella parte di sotto che sono andata a coordinare in questa giornata un po incerta un po freschetta con l'anfibietto ragazze in tessuto di cotone vi ricordo che tutti quanti gli articoli che stiamo vedendo grazie alla promo due e mezzo anche per la prossima settimana saranno in promozione quindi ogni tre capi acquistati il meno caro lo pagate soltanto la metà mi rimetto il giacchettino perché comunque ragazze fa freschetto vi faccio vedere altri due articoli nuovi che ancora non abbiamo visto ed eccomi qui ragazze sono arrivata a farvi vedere new entry perché è vero che oggi ha fatto freschetto ma l'estate sta arrivando ragazze i pantaloni morbidi a palazzo leggeri questa volta a fantasia ci sono arrivati e li trovate già disponibili quindi presso il nostro punto vendita taglia unica cotone ultra leggero modello a palazzo fantasia che va sempre di più a scurirsi nella parte di sotto fantasia che ha il nero e l'oro con una base bianca per quanto riguarda la prima colorazione con una colorazione jeansata avion quindi da abbinare perfetta anche sul blu la versione più chiara taglia unica elastico in vita modello che arriva alla caviglia quindi non abbiamo bisogno di fare l'orlo per questo pantalone possiamo andarlo a coordinare ovviamente con una scarpetta con il tagli che abbiamo disponibili presso il nostro punto vendita a un prezzo speciale e ultra comodo ragazze andate a vedere nel story andate a vedere l'ultimo reel che ho fatto dove ci sono quattro modelli e ovviamente si possono abbinare a un bel anfibietto ma anche a una scarpetta da ginnastica anche a una sabattina ragazze e volendo si potrebbe coordinare perfettamente a questi fantastici pantaloni morbidi morbidi e leggeri a palazzo anche questa blusetta che è deliziosissima taglia unica modellino in crepe giro collo con la manica spezzata disponibile nella colorazione verde nella colorazione nera sabbia rosa e bianca ve ne faccio vedere una perché è veramente deliziosa così poso le altre e aspetta allora eccomi qui tessuto di crepe quindi quello leggero morbido vestibilità ottima perché rimane morbida senza essere un oversize la lunghezza è quella giusta perché mi arriva a metà ciapet la bellezza di questa maglia è che ha la manica spezzata e che quindi mi va a coprire la parte interna del braccio si è proprio quella che ci dà un po' d'ansietta in questo periodo quindi abbiamo questa fascia che va a chiudere qui la spalla rimane scoperta quindi ha la leggerezza la freschezza di un top pur essendo un effetto quasi a mezza manica visibilmente ragazza è deliziosa deliziosa da mettere anche su quel pantalone proprio come vi stavo dicendo e da lasciare fuori sblusata ma anche da mettere dentro anche perché il tessuto di crepe come al solito vi ricordo è un tessuto che non si stropiccia che non va stirato e ragazze che leggerissimo coprente e che è perfetto dentro un pantalone dentro una gonna è delizioso a questo punto 19 e 45 circa ragazze io vi do appuntamento a domani che è sabato a partire dalle 9 e 30 sarò qui operativa presso il nostro punto vendita da aspettarvi con la promo 2 e mezzo ancora attiva per tutta la settimana prossima quindi mi raccomando sbrigatevi rgn lovers su instagram facebook youtube tiktok andate a cercare il post attivatelo mettendo il like e salvando il reel della varomo 2 e mezzo così quando passate qui a negozio ogni 3 capi acquistate il meno caro lo pagate soltanto la metà lo shopping vi aspetta la nuova stagione sta per arrivare non facciamoci trovare impreparate ragazze di outfit ne abbiamo tantissimi a partire dalla taglia 36 fino alla taglia 54 questo punto da monola è tutto ci vediamo domani ciao